Ciao a tutti, benvenuti sul canale di Fairy ASMR, io sono Federica e quello che state per guardare è un nuovo video ASMR rilassante, utilizzerò per tutta la durata del video questo tono di voce sussurrato, quindi vi consiglio di indossare le cuffie oppure gli auricolari per ascoltarmi al meglio, giù in descrizione a proposito trovate un link affiliato per l'acquisto di una marca di cuffie veramente molto adatto all'ascolto di questo genere di video, potrete utilizzare questo video ASMR per addormentarvi oppure ascoltarvi con un po' più di attenzione il contenuto, lo scopo è quello di proporvi un metodo per rilassarvi completamente e ridurre l'ansia derivata da situazioni collegate al lavoro, è molto molto efficace soprattutto in questo periodo dell'anno quando si rientra dalle vacanze e si torna alle attività quotidiane, quindi appunto il lavoro oppure lo studio e si devono affrontare quelle circostanze in cui è richiesta una prestazione che può portare appunto angoscia oppure stress se l'idea di questo video vi piace, ti piace, non dimenticarti di farmelo sapere lasciando un mi piace con i pollicini qui sotto e se vuoi vedere altri video rilassanti prossimamente iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere tutte le notifiche dei nuovi caricamenti adesso noi iniziamo mi raccomando mettetevi comodi bene oggi insieme alla mia voce un altro drinker che personalmente adoro il tapping sul legno mi accompagnerà durante il video lasciatevi guidare dai suoni svuota la mente da ogni pensiero voglio proporti un esercizio di visualizzazione guidata che ridurrà drasticamente il livello di ansia che stai provando se hai cliccato su questo video immagino che tu stia vivendo una situazione poco confrutevole forse semplicemente la tua testa è rimasta in vacanza oppure al lavoro c'è una situazione sgradevole magari il tuo capo è una persona scontrosa magari non sei attuato con i colleghi oppure ancora svolgi un'attività che non ti gratifica pienamente tutto questo può naturalmente provocare uno stato molto delicato può renderti suscettibile può renderti suscettibile e molto sensibile ecco devi in primo luogo svuotare la tua mente e prepararti all'esercizio in maniera del tutto neutra non concentrarti sulle tue preoccupazioni adesso lasciali scivolare via inizia a sentire in lontananza il lieve d'inghettivo della pioggia è una pioggia leggera fresca arrivata per purificare la tua mente per lavare via i cattivi pensieri immagino che la tua mente sia come una spoglia con tanti minuscoli forellini pronti a ricevere l'acqua di questa pioggia e immagino che questa pioggia abbia un colore scegli tu scegli tu quale color darle scegli tu quale color darle scegli tu e guarda come la spugna si gonfia scegli tu bevendo quest'acqua fresca e pulita scegli tu la spugna la spugna della tua mente è sempre più gonfia di pioggia colorata tanto tanto che lo sporco delle preoccupazioni inizia ad affogare e ad essere percepito in maniera confusa adesso adesso lo sai più bene cosa ti preoccupi veramente non è più importante e man mano che la pioggia riempie d'acqua la spugna della tua mente diventa importante solo il momento presente adesso che la spugna sia ingrandita raccoglila raccoglila con le tue mani e strizzala fa sì che tutta l'acqua colorata scioliglia e insieme ad essa anche i pensieri che prima occupavano la tua mente la tua mente visualizzati al centro di una stanza guarda guarda il tuo corpo il tuo corpo ascoltalo avvertine il peso e la misura si si consapevole dello spazio che occupi si consapevole della tua presenza sentiti sentiti al centro sentiti di quest'ambiente che ho creato per te sentiti la tua importanza e inizia e inizia a dominare lo spazio con questa nuova attitudine di consapevolezza del tuo corpo del tuo peso della tua importanza affronterai la tua situazione lavorativa saprai farti valere e in ogni momento in cui sentirai la tua persona schiacciata dagli eventi o dalle parole degli altri non permetterai che questo si prolunghi con la tua presenza ti porrai al centro quando ti sembrerà che la situazione sia insostenibile ti visualizzerai al centro della stanza vuoto attorno a te nient'altro che il ragionazione dei tuoi pensieri e delle tue mani niente sarà più importante del tuo benessere della tua forza della tua capacità di dominare gli eventi gli eventi le circostanze tu dominerai il tuo spazio nessuno può davvero esercitare un'influenza sulla tua libertà sulla tua libera coscienza e tu da questo momento sei libera coscienza sei capacità sei capacità di agire sei in grado di decidere e deciderai cosa è meglio per te da questo momento saprai ridurre al minimo le occasioni di di stress e il fastidio provocato dal loro sottostare a ordini che non senti ragionevoli sarai in grado di contestarli pacificamente non sarai più schiacciato dagli altri dalle loro pressioni perché perché sei come il centro di una stanza vuota e ti senti senti la tua testa il tuo viso il tuo collo le tue spalle le tue braccia le tue mani il tuo busto il tuo bacino le tue gambe i tuoi piedi senti senti quanto è grande la tua presenza e attorno a te c'è solo il tuo campo solo solo chi tu scegli di far entrare nel tuo campo avrà il permesso di accedere solo chi tu sceglierai di far avvicinare a te entrerà nel campo di energia che c'è intorno al tuo corpo fisico e sei padrone o padrono di gestire questo spazio vuoto sei completamente in possesso in possesso delle tue capacità decisionali di scelta e di azione ogni volta che hai il lavoro ti provocherà angoscia o insoddisfazione ricordati della tua capacità di scegliere ricordati di questa tua presenza e sappi allontanare il resto scompera quel campo che hai necessità di tenere libero perché posso funzionare come ragionazione spero che questo video ti sia piaciuto ti lascio alla fine altri video che potrebbero piacerti ricordati lasciare un pensiero un pensiero felice qui sotto come segno del tuo passaggio e se ti va noi ci vediamo al prossimo video bacini fatosi ciao ciao Grazie.